eccoci qui oggi siamo in esterna simone raso allora tutti x photographer io oggi proviamo dei flash simone qui con me oggi per provare il nuovo fx 500 quindi nulla insomma tra poco allora max si flash primario si due slave esattamente cerchiamo di isolare il sud oggetto dal fondo sì e con questo flash scatteremo foto controllando gli altri flash da remoto può lavorare possiamo lavorare in ttl oppure possiamo lavorare anche in manuale facciamo un po di prova bene oggi scattiamo qui al palazzetto di treviglio tommy marino pubblico c'è simo c'è la foto c'è di brutto jordan non è nessuno mettiamo dei diffusori renderemo la luce un po più morbida e poi proveremo anche invece a fare un ritratto con due luci di taglio molto dura molto maschile scattiamo col 56 1 e 2 per staccare di più lui dallo sfondo quindi max abbiamo cambiato lo schema luci sì abbiamo cambiato lo schema luci adesso facciamo una luce molto maschia come abbiamo detto prima di taglio laterale quindi ci sarà una linea scura sul viso e due luci molto dure lateralmente proviamo stiamo scattando dei ritratti con tommy marino il nostro campione di oggi adesso abbiamo uno schema di luce con una luce laterale una luce che fa uno spot sullo sfondo stiamo usando questi rogue che ci permettono di avere una luce morbida da questa parte e di avere dall'altra parte invece un cono sullo sfondo si può dire buona la seconda la prima ci abbiamo pensato un attimo e poi niente e poi ce l'abbiamo se fosse una donna guarda mi fidanzerei con quella allora shooting fantastico grande un campione 3 campioni 3 campioni 3 campioni abbiamo scattato in diverse situazioni i nuovi flash funzionano alla grande quindi bello divertente tra l'altro perché sei leggero tutto maneggevole configurazione direttamente in macchina fatto bello ti sei annoiato da me incredibile esperienza super bene alla prossima ciao ciao il saluto di oggi è molto veloce la giornata è stata lunga impegnativa ma molto divertente vi devo ringraziare simone e tommy che oggi sono stati i miei assistenti colleghi amici quindi è stata veramente una giornata molto bella il libro che vi posso consigliare oggi si intitola portraits è un ebook che esiste solo in formato elettronico è di un collega che si chiama damien lovegrove potrete trovare il link al libro nella descrizione del video qui sotto a presto 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 Grazie a tutti